Salve, sono sempre io, non so se mi interessa i miei filmati, ma come promesso sto, anche oggi sto facendo un passaggio, non nevica, e poi l'ho più sentito per la radio, sta nevicando, tutti intorno a Verona, Frensia, Matoa, sta nevicando, ma tu no, sta nevicando, qua non ho ancora, però c'è un frattupoia, porta di qua la zozza, nonostante gli occhiali, mi piangono gli occhi lo stesso, niente, però, teniamo a botta e proseguiamo, questa è la casa che ho inquadrato l'altro giorno, quando sono salito sulla collina degli aieroni, non so se qualcuno ha visto, se le ricorda, e poi andrà, dietro, adesso mi fermo, provo a fare uno zoom, e zoom qui, una zoom qui, quella che ce l'ha, giornata ucciosa, come si vede il panorama, sta piovendo, fine, 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 non so se, si trumuterà in neve, però, le aspettative sono buone, chissà, bellissime, ciao, perro di campagna, eccomi qua, sono quasi arrivato, anche oggi il giro è finito, non ho incontrato nessuna rotoletta, oggi, non saremo alle tutte case, quindi, faccio un video corto, perché, non annoiarvi, non essere ripetitivo, se volete, seguitemi su youtube, seguite anche me su tiktok, mettete mi piace, se vi interessano i miei video, mi trovate anche su facebook, instagram e twitter, ci vediamo e ci sentiamo alla prossima, e come dico sempre, abbiate fiducia, ciao, 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 ciao.